E' stato presentato presso la Sala Giunta della Regione Campania, Palazzo Santa Lucia, il corso hospitality on board per formare e assumere in Campania 25 giovani d'età compresa tra i 18 e 29 anni, un'iniziativa dell'ITS Academy BACT in collaborazione con Helior Group. Dopo il Piemonte, la Toscana, la Puglia e il Lazio, la partnership Helior-ITS Academy arriva anche in Campania con l'ITS Academy BACT, l'istituto tecnologico per i beni e le attività culturali e turistiche della Campania, che attiverà il percorso a Napoli grazie al finanziamento della Regione nell'ambito del potenziamento dell'offerta di istruzione tecnica superiore a cura degli ITS già costituiti e operanti in Campania nel periodo 2020-2023. La novità assoluta è che per tutta la durata del corso gli allievi lavoreranno e saranno assunti con un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca che favorisce in un sistema duale l'integrazione tra formazione e lavoro, finalizzato all'occupabilità e all'occupazione dei giovani. Ascoltiamo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. ITS significa istituti tecnici superiori, cioè un livello di formazione che si colloca fra il diploma e l'università. Ragazzi che non hanno deciso quale facoltà scegliere, ma che si sono diplomati, possono iscriversi agli ITS, agli istituti di formazione. La novità è questa, che chi si iscrive oggi a questo ITS ha da subito un contratto di lavoro a tempo indeterminato e riceve una retribuzione che è pari all'atto dell'iscrizione al 60% dello stipendio finale e poi a scalare l'80% e 100% della retribuzione fino al completamento del corso di formazione. Grazie a tutti.